Ladri in azione ancora all'ospedale civico dopo il blackout dei giorni scorsi nel reparto di cardiologia per il furto di cavi di rame che ha causato disagio ai pazienti e al personale sanitario. I carabinieri hanno arrestato un uomo, due vigilanti della KSM lo hanno segnalato mentre stava rubando cavi elettrici usati per collegare il reparto di radiologia a un gruppo elettrogeno d'emergenza. A Borgonuovo due giovani sono stati bloccati dai carabinieri mentre stavano rubando una vettura. Hanno tentato la fuga speronando anche l'auto dei militari ma sono stati bloccati e arrestati. Infine in via Trieste nella zona della stazione dove si sono ripetuti decine di furti e danneggiamenti alle auto è stato bloccato un giovane di 20 anni per un tentativo fallito di rubare una macchina.